1 e 52 definiscono le commissioni speciali. Tutto quello che è previsto in questi articoli io penso che posso a ragion veduta dichiarare, perché per quanto riguarda la mia persona e per quanto riguarda il ruolo e quindi la funzione anche dei dirigenti, non c'è stata e non credo ci sarà nessuna preclusione nel trasferire e nel portare in commissione tutto quello che la commissione riterrà opportuno, sempre rispettando quelli che sono i dettami della legge. Per cui io credo che se ci sono ampie garanzie nell'acquisire tutti gli elementi per poter arrivare a definire tramite la commissione le motivazioni del perché si è sciolta questa cosa. Per cui queste sono le garanzie che ognuno di noi può offrire. Adesso passeremo alla votazione per cui dichiaro aperta la votazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.